Sequestrate 120 chili di sigarette in manette e contrabbandiere di volla. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato a Barra un 23enne, già noto alle forze dell'ordine, per precedenti episodi di contrabbando e per traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Nola, che durante la costante attività di controllo economico del territorio, seguendo le tracce delle linee di distribuzione clandestine di sigarette, hanno notato un uomo prelevare alcune scatole prive di segni identificativi e riporle con celerità all'interno del bagagliaio di un'auto. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia e alla conseguente ispezione del veicolo, è stato scoperto che all'interno delle scatole era occultato il carico di bionde di contrabbando. Nel corso del 2021 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato 836 interventi, sequestrato quasi 16 tonnellate di tabacchi, denunciato 481 soggetti, di cui 43 tratti in arresto, numeri che denotano un trend stabile e che evidenziano come il mercato illegale dei prodotti da fumo, nonostante la pandemia, non abbia subito sostanziali contrazioni. Grazie a tutti.